Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, ancora un caso di violenza sulle donne a Ferrara. Ieri c'è stato un arresto mentre sempre ieri i carabinieri hanno arrestato anche diverse persone per lo spazio di droga, ma non sarà solo la cronaca in questa edizione, qualcosa si sta muovendo per garantire un futuro al mercatone 1. I lavoratori dei tre punti vendita di Ferrara e provincia aspettano poi prevenzione del rischio e salute in primo piano a Ferrara con diverse iniziative che scopriremo a breve e tanto sport anche. Ma partiamo parlando del grave episodio ieri a Ferrara dove un uomo è stato arrestato per aver picchiato la convivente. Una donna con un occhio tumefatto e le labbra gonfie ci vorranno sette giorni per guarire dalle ferite che chiedeva aiuto in lacrime. Così i carabinieri hanno trovato in strada a Ferrara ieri a mezzogiorno e 30 la convivente dell'uomo di 47 anni originario della Tunisia poi arrestato per lesioni personali volontari e resistenza pubblico ufficiale. Applicata la nuova legge dello scorso luglio denominata Codice Rosso con le nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Al mattino, secondo il racconto della donna, l'uomo l'avrebbe picchiata e l'avrebbe inseguita. A farlo desistere sarebbe stato l'arrivo della gazzella dei carabinieri militari che hanno tentato di fermarlo, ma il 47enne si sarebbe dato alla fuga su per le scale del palazzo in cui c'è l'abitazione della coppia. Una volta raggiunta la cima dell'edificio, l'uomo si sarebbe sentito in trappola e per guadagnarsi la fuga avrebbe aggredito i carabinieri con degli spintoni. Una volta bloccato, l'uomo è stato dichiarato in arresto e portato nella caserma di via puntato Carmine della Sala a Ferrara, dove è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. La vittima invece è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Cona. Una volta dimessa, la donna ha sporto denuncia per i reati di maltrattamento in famiglie e lesioni personali e ha rivelato che nei tre anni di convivenza, in diverse occasioni, l'uomo l'avrebbe picchiata selvaggiamente con pugni al volto e alla testa e di non aver mai sporto denuncia né essere ricorsa alle cure mediche per paura della reazione dell'uomo. E c'è anche una raffica di arresti per droga a Ferrara e provincia. Ieri sera i carabinieri del Norma hanno scoperto due grammi di cocaina e marijuana e quasi 3.500 euro, provabile provento dello spaccio nell'abitazione di un uomo di 25 anni di origine nigeriana, poi arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il presunto pusher era stato scoperto mentre vendeva in via Lende, nella zona del barco in città, mezzo grammo di cocaina a un ferrarese di 37 anni. E sempre ieri sera, ma a Codigoro invece, nell'abitazione di un ragazzo di 19 anni con precedenti con la polizia, i militari hanno trovato 90 grammi di marijuana più tutto il necessario per confezionare le dosi di sostanza stupefacente. Il giovane è stato così arrestato come il 32enne originario di Reggio Calabria, trovato ieri mattina a 100 e portato nella casa circondariale a Ferrara, uomo che dovrà scontare due anni di carcere per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Bagnara Calabra nell'ottobre del 2016. E passiamo all'economia e parliamo della crisi del mercatone 1, il tavolo istituzionale che si è tenuto ieri, un tavolo istituzionale al Ministero dello Sviluppo Economico, il Mise a Roma, sulla vertenza appunto del mercatone 1 che interessa anche tre punti vendita del ferrarese. È stato detto che ci sarebbero dei compratori all'orizzonte. 24 tra società italiane e internazionali sarebbero concretamente interessate al mercatone 1, 11 di queste hanno già avuto accesso alle informazioni aziendali. E quanto sarebbe emerso dall'incontro che si è svolto martedì a Roma al Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, a dirlo i commissari straordinari di mercatone 1 che stanno gestendo il post fallimento della catena di negozi acquistati circa un anno fa da Sherman Holding e che ha dichiarato il fallimento a maggio scorso. A Ferrara sono tre i punti vendita chiusi da fine primavera Ferrara, San Giuseppe di Comacchio e Mesola. In tutto sono più di 90 i lavoratori che stanno attendendo una svolta della situazione. Qualche speranza potrebbe essere arrivata dall'incontro al Mise tra i commissari, le organizzazioni sindacali e le regioni sul percorso da seguire le iniziative da porre in atto. I commissari straordinari poi hanno fatto il punto sul piano di lavoro per la cessione dei punti vendita del gruppo che al 31 ottobre completerà la fase per la presentazione di proposte vincolanti di acquisto da parte dei soggetti interessati. L'obiettivo è quello di avviare un percorso di rilancio dei punti vendita del gruppo Mercatone 1 e garantire l'occupazione dei lavoratori attualmente in cassa integrazione. Cambiamo totalmente di argomento. Adesso torna il prossimo fine settimana nelle piazze di tutta Italia la campagna Io non rischio per promuovere le buone pratiche di protezione civile e sensibilizzare in maniera capillare i cittadini sui dischi del territorio e i comportamenti da mantenere in caso di eventi calamitosi. Quest'anno la campagna che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre si terrà anche a Vigarano Mainarda. Ne abbiamo parlato con il presidente della protezione civile di Vigarano Mainarda, Roberto Guerra. Io non rischio una campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile, una campagna nazionale che coinvolge anche Vigarano Mainarda per il prossimo weekend. Stiamo parlando di sabato 12 e domenica 13 ottobre. Che cosa succederà, presidente? Allora, abbiamo preparato questa manifestazione che è una manifestazione nazionale organizzata dal Dipartimento nazionale insieme all'Agenzia regionale di protezione civile. C'è un format che è un gazebo giallo che verrà piazzato in Piazza della Repubblica a Vigarano Mainarda e abbiamo preparato anche del materiale. Ci saranno una decina di volontari che hanno fatto un corso per prepararsi come comunicatori, più tanti altri volontari che passeranno e saranno alle disposizioni come cittadini per i cittadini per parlare di prevenzione. Quindi non solo il volontario di protezione civile nell'emergenza, che noi incontriamo spesso purtroppo i cittadini in queste occasioni, ma per dare consigli per come organizzare meglio la propria vita, la propria casa in caso di emergenza. Le emergenze soprattutto nel nostro territorio a Vigarano sono due delle quali voi parlerete e con delle tematiche il sabato e la domenica. Il sabato si parlerà di terremoto e maremoto, la domenica di alluvione di Codice Colori. Certo, allora il proprio Dipartimento ci tiene che vengono in ogni giornata identificato una tipologia di rischio e ovviamente per il nostro terremoto siamo nel nostro territorio, siamo nel cratere del sismo 2012. Parleremo di terremoto ricostruendo anche la storia dei terremoti nel tempo e di maremoto. Maremoto che non interessa direttamente noi, però sappiamo benissimo che abbiamo una costa, abbiamo anche spesso andiamo in vacanza e possiamo quella ragazzina che ha salvato la famiglia perché sapeva come comportarsi in caso di tsunami. La domenica invece parleremo dell'alluvione che è praticamente il rischio più grosso del nostro territorio e parleremo del codice colore di come interpretare le allerte che arrivano dal Dipartimento e dalla Regione. Porteremo anche la novità che ci sarà sperimentata a breve da parte del Dipartimento Nazionale di un sistema di allertamento nazionale tramite dei radar, tramite le celle telefoniche in modo da arrivare capilarmente su dove succede il rischio. Ricordiamo il ruolo dei volontari, una quarantina a Vegarano. Il ruolo dei volontari è importantissimo perché va bene che il Presidente, il Consiglio Direttivo porta queste iniziative in associazione ma senza i volontari uno non riesce poi a portarle avanti. Quindi c'è un bel team, una bella squadra, gente che dà il proprio impegno sia in questa attività qui ma anche quando ci sono state le emergenze, quando ci sono le cose. Quindi un grazie a tutti i volontari, sono più di 7 mila in tutta Italia che faranno questa attività e ai nostri volontari di Vegarano Menarda. Siamo adesso alla sanità ma parliamo di salute. Due giornate in Piazza Castello a Ferrara per parlare appunto di salute, benessere e prevenzione per tutte le fasce di età. L'appuntamento è per sabato 12 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 19 con il tour della salute dedicato ai più adulti e domenica 13 ottobre negli stessi erari invece con Crescendo in Salute per le famiglie e i bambini. Una doppia manifestazione insomma a cura di Federpharma, la federazione titolari di farmacia di Ferrara con il patrocinio del Comune. Saranno presenti punti informativi con esperti su tematiche riguardanti le malattie cardiovascolari, l'aderenza, la terapia e i problemi dermatologici oltre a un camion con ambulatori dove i visitatori potranno sottoporsi gratuitamente a test di autodiagnosi a screening di prima istanza come la glicemia, la pressione arteriosa, lo screening odontoiatrico il test dell'udito e anche il controllo del peso. E prosegue la scuola internazionale di Beardwatching attualmente in corso presso il parco del Delta del Po. Abbiamo intervistato due dei ragazzi iscritti al corso ma uno ha già inserito nel nostro territorio un ragazzo e uno invece proveniente da Roma. Sentiamo come stanno vivendo questa esperienza. Parliamo con un giovane che è già coinvolto nelle iniziative legate al territorio che comunque già opera appunto su Comacchio. Come nasce appunto il tuo interesse verso questo corso e che aspettative hai insomma anche per incrementare quello che già fai? Nasce da quando ero piccolo. Sono sempre stato appassionato di natura. Ho seguito tutto un percorso di studi legato alla biologia e alla conservazione dell'ambiente e poi cominciando a lavorare nel territorio con il progetto di lotta biologica alle zanzare e con i turisti nelle valle di Comacchio mi sto radicando in un territorio dove sono venuto anche ad abitare da circa sei anni. Io provengo dalle campagne del ferrarese, dalla bassa ferrarese e di conseguenza ogni opportunità che questo territorio offre di approfondire il tema naturale del turismo sostenibile cerco di prenderlo al volo insomma. Mi interessa molto. Quindi diciamo un investimento nel tuo futuro, nel proprio futuro per quello che riguarda le potenzialità del territorio che hai già colto da tempo però. Esatto, esatto. Sto cercando di andare sempre più nel profondo per cercare di trarre il meglio da questo territorio e ovviamente anche per il mio futuro in questo territorio. Tanta gente da varie zone d'Italia e non solo. Con noi abbiamo un giovane che arriva da Roma per capire il perché l'iscrizione a questa scuola e soprattutto che aspettative ci sono anche per una persona che vive nella capitale. Allora diciamo che sono sempre stato interessato, sempre fatto volontariato nell'ambito dell'ambientalismo in associazioni ambientaliste quindi lavorando già nel turismo questo è un modo per connettere le due cose, trovare una passione e unirla in ambito lavorativo ecco. Ma ci sarebbe disponibilità anche a trasferirsi da queste parti o diciamo sarebbe una collaborazione più a distanza? Questo non lo so ancora però magari non lo escludo a prescindere. cioè diciamo queste cose comunque in ambito naturale eccetera funzionano molto molto bene in comunità magari un po' più piccole spostandosi un po' più dalle grandi città quindi certo non sarebbe male ritornare in un posto un po' più piccino e stabilirsi. Da questo corso che aspettative ci sono? Vorrei diciamo un po' apprendere le modalità, le tematiche, approfondire le tematiche per per magari aprire anche qualcosa di mio ecco adesso lavoro in un ambito turistico però ovviamente essendo un dipendente devo comunque stare le grandi regole del turismo romano ecco capitale. E passiamo allo sport adesso presentata questa mattina la nuova stagione della storica società della palla a spicchi estense la quattro torri basket del presidente Moretti. La Despar quattro torri è pronta dunque a tagliare il nastro del 72esimo anno di attività con la stagione 2019-2020. Un vero e proprio record quello della società di pallacanestro del presidente Luigi Moretti che si annovera come una delle società più radicate e storiche del territorio. Oltre 400 i campionati disputati dal 1948 ad oggi con oltre 10.000 atleti che in questa tre quarti di secolo hanno vestito i colori granata tra i più famosi ricordiamo Bob Cavallari e Tommaso Fenati che hanno calcato poi perché della massima serie. E adesso invece parliamo e passiamo alla SPAL presentato ieri mattina l'album edito su cui potranno essere incollate le figurine che ritraggono i componenti della famiglia bianco-azzurra proprietà dirigenza staff tecnici ovviamente tutti i giocatori di prima squadra e anche della primavera sono inserite oltre la sezione storica quella anche dedicata allo stadio e al centro GB Fabri ma anche i tifosi. Presentato l'album delle figurine SPAL ovviamente non poteva essere che abbinato alla grande famiglia della Panini. Giacomo Giorgi cosa troviamo all'interno di questo raccoglitore possiamo definirlo così di questa pubblicazione veramente interessante? Un raccoglitore sicuramente di emozioni, emozioni del passato, emozioni del presente ed emozioni eterne perché sicuramente le sezioni che andremo a vedere nell'album riguardano anche dei monumenti storici come il Paolo Mazza alle origini piuttosto che adesso dopo la ristrutturazione. Tra le altre sezioni legate alla storia c'è una timeline che riporta fondamentalmente tutti i giocatori più significativi della storia della SPAL tra cui Capello e tanti altri che sono stati rappresentati nelle figurine originali della Panini degli anni 60 quindi c'è una riproduzione vera e propria della figurina di quei tempi. A quei tempi la figurina veniva incollata con la colla adesso dal 74 la figurina è autoadesiva. Un totale di quante immagini? Sono 106 figurine da collezionare andando a fare la spesa nei punti vendita Coppa di Ferrari Provincia più Occhiobello l'outsider ogni 15 euro di spesa si ottiene una bustina che ottiene 4 figurine. Nella famiglia Coppa Alleanza come è maturata questa idea di questo regalo diremo per tutti i ferraresi non solo per gli spallini. Sì è un regalo per i ferraresi per i tifosi della SPAL ma noi abbiamo creduto che all'interno di una compagine sportiva una squadra di calcio si esprima ai massimi livelli il senso di appartenenza che è un po' il senso di appartenenza che noi vediamo quotidianamente per chi frequenta i nostri punti vendita per i grandi quantitativi di soci che abbiamo all'interno dei nostri punti vendita e i clienti che ci vengono a visitare quindi il progetto ci è piaciuto dall'inizio proprio per questo motivo. Non ultimo il fatto che noi su Ferrara abbiamo da almeno tre anni attivato attività legate al territorio in maniera molto forte, molto pressante perché anche in questo caso crediamo insieme ai colleghi di Copreno che il territorio sia la parte principale e iniziale di ogni intrapreso commerciale quando soprattutto si parla di imprese commerciali cooperative. e quindi in questo senso siamo andati ad accettare in maniera molto forte la proposta che abbiamo ricevuto. La riteniamo meritevole di una considerazione importante proprio per gli elementi di territorialità e di connotazione delle prodisposizioni e dei nostri clienti che ci chiedono di essere vicini al territorio. A mano adesso la Ferrara United è pronta per una nuova sfida dopo l'ultima vittoria ma anche l'Ariosto Ferrara è pronta per il match con Oderso. Sentiamo allora il pivot dello United Nero Zaltron e Luciana Stettler che è della squadra Ariosto. La vittoria di mezzo colonna ha riportato, si potrebbe dire, il serene. In casa Ferrara United è una vittoria piena, larga, ottenuta su un campo difficile. Cancellata la sconfitta interna contro Molteno, adesso però c'è un'altra grande sfida da affrontare contro il Malo, squadra strutturata, costruita che Ferrara conosce e davanti ad un pubblico che dovrebbe essere delle grandi occasioni. Sì, ci siamo rialzati dopo la sconfitta con Molteno. È stata una partita comunque complicata, però dopo siamo riusciti a risollevarla e uniendoci come squadra l'abbiamo portata a casa e adesso testa la prossima partita con Malo che l'abbiamo già affrontato, questa è la quarta volta se non sbaglio. Speriamo di ripetere i risultati ottenuti nell'amichevoli per ottenere altri due punti. Un inizio di stagione caratterizzato soprattutto dai tanti infortuni. Sì, siamo un po' con la rosa corta, speriamo di tirar fuori almeno, sapendo Vesse che è un po' al limite, così anche Gio Cabrini, almeno una panchina un po' più lunga fa comodo sicuramente. Una serata speciale, Ferrara nel Palaboschetto si veste con lo snow walking anche perché arrivano i ragazzi dell'Università di Ferrara, una bella partnership, questo con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca. Bellissima iniziativa, quello sì, con l'Università di Ferrara. Speriamo che venga molta gente e abbiamo sparso la voce il più possibile, anche noi giocatori, la dirigenza ha fatto un attimo lavoro per questa iniziativa. Luce Tettler torna in campo l'Ariosto in un campo difficile contro l'Oderzo, dopo una lunga pausa, come arriva la squadra a questa sfida molto importante in questa regular season? Allora, è certo che siamo carichi, abbiamo perso queste due settimane di pausa per darci una spinta in più, soprattutto a livello fisico, quindi io penso che la squadra avrà tanto da fare e da dimostrare soprattutto ancora, essendo all'inizio della stagione in questa partita di sabato. Che squadra è l'Oderzo? Allora, è molto cambiata da quello che era l'anno scorso, per quello che stiamo guardando, è una squadra che adesso cerca di spingere un po' di più, quindi non è da sottovalutare assolutamente, è una squadra tosta, però anche noi lo siamo e ci siamo rafforzati appunto per confrontare queste squadre qui. Anche l'Ariosto è una squadra molto nuova, a che punto siete del rodaggio di squadra? Direi che praticamente abbiamo trovato la nostra amalgama, ci manca ancora da lavorare, però siamo nella strada giusta. Questa sera su Telestense alle ore 20, nuovo appuntamento con Delta del Po, viaggio nella biosfera, la quinta puntata è incentrata sul regista Pupiavati e sulla sostenibilità, alle 21.30 invece c'è con i piedi per terra oggi attualità su agricoltura, turismo e enograstronomia del territorio, mentre alle 22.15 il primo piano su Remtech Expo 2019 nel segno della scienza verso nuove frontiere, successo quindi per la tredicesima edizione della fiera dedicata a bonifiche, coste, dissesto e clima e tanto altro. E poi alle 22.30, sempre su Telestense, appuntamento con Artigianato News, ce ne ha in festa in cui potremo vedere come si fa in presa e come si fa in particolare l'artigiano. Mentre per rimanere aggiornati su tutte le news dalla città e dalla provincia c'è il sito telestense.it e tutti i profili social. A me non resta che ringraziarvi e augurarvi una buona serata. A me non resta che ringraziarvi e augurarvi una buona serata.